Oh, bravissima! Come è stato? Molto sexy o delicato? Ah, che bello! Una pomiciata appassionata è tutto ciò che voglio da Poli. Se mi bacia, io sarò... Sentirò gli angeli cantare perché è l'uomo dei miei sogni. Vorrei poter stare da sola con lui. Un appuntamento sarebbe l'ideale per farmi conoscere meglio.